Differente il parco ma medesimi problemi come in altre parti della città. Giochi assenti o eliminati perché danneggiati e pericolosi, strutture fatiscenti e privati che sopperiscono alle mancanze delle istituzioni mettendoci del proprio. La storia l'abbiamo già vista in tante altre parti della città, ma questa volta siamo stati contattati dai residenti del Fenile di Fano, una comunità popolosa ed un quartiere attivo e vitale, attivo a tal punto che ora, dopo ripetuti appelli e contatti con le istituzioni immancabilmente caduti nel nulla, tenta la strada istituzionale con una raccolta firme tra i residenti del quartiere per poter avere più peso con chi di dovere, per chiedere di riportare il verde pubblico allo stato di origine e come dovrebbe essere per una comunità così numerosa, visto anche il fatto che questi luoghi, essendo il quartiere decentrato rispetto alla città, viene frequentato anche da adulti ed adolescenti durante tutte le ore del giorno ed un parco pubblico cittadino che si possa chiamare così non può versare in questo stato di abbandono e degrado. Cioè via via sono state rotte le varie strutture, vuoi per l'incuria, vuoi per la mancata manutenzione, vuoi per atti vandalici e poi non sono state più sostituite. Quindi ad oggi ci troviamo nel paradosso che praticamente ogni genitore per far giocare i propri bambini deve prendere la macchina e magari andare in centro, fare quei 3, 4 o 5 chilometri e spostarsi, quindi questa è un'assurdità. Perché non è solo questo parco in cui ci troviamo adesso, ma sono un po' tutti i parchi del Fenile che vengono abbandonati e vengono manutenuti da privati, quando possono e come possono. Nella nostra istanza chiediamo che ci siano anche videosorveglianze o qualsiasi altro sistema che consenta di prevenire atti vandalici, che se no si buttano via soldi pubblici. La situazione va avanti da tempo, mi sembra di capire, si protrae da diverso tempo. Questa situazione che si vede qui è da 6 o 7 anni fa, i tappeti di gomma già sono coperti dalle erbe, era pieno di giochi qui. Tra coloro c'è anche chi, da quasi un decennio, proprio perché il quartiere necessita di un collegamento con il centro storico, si batte per il completamento della pista ciclabile. Io ho raccolto le firme 9 anni fa per la ciclabile, in due giorni, quasi 700 firme, in due giorni. Siamo ancora qua, Sian.